Giletti, l'unica sua speranza, sinceramente me lo auguro anche io per loro, perché sono giovani, che venga abrogato Stergastolo Stativo e comincino a godersi veramente un po' la famiglia, i figli, perché non è gente così… Tra tre giorni la Corte Costituzionale decide, c'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima e magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che è allergastolo stativo senza che ci sia clamore. Lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene, quindi se lei lo sa, è un e perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque… Ti presume, via… Con il Graviano lei ha intrecci con i parenti, immagino, non ha rotto i rapporti con il sistema intorno al Graviano, che lei sta dicendo una cosa forte, mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo, appena arriva si insedia… E un fiore all'occhiello… E il governo c'è Berlusconi, no? Anche… E può essere un… come si dice, un bel regalino… Però questo vuol dire… non mi dica che penso male… cioè qualcuno potrebbe dare delle indicazioni come forse vennero date per la cattura di Totorina… Tutto è possibile… E far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto una finalità… Per poi… far uscire qualcuno dal carcere… Senza che sia un clamore… Tutto è possibile, Giletti… E questo però contraddice quello che diceva lei, che dice io… Graviano non parla, non dice… In effetti, cosa dice Graviano, cosa parla Graviano? Eh, ma se si sa che Matteo Messina Denaro non sta bene, che forse potrebbe arrivare a un accordo… Si sa, si presume… Eh, se lei dice si presume, io credo che si sappia… Quindi lei mi sta facendo… raccontando uno scenario che potrebbe realizzarsi da qui a poco… Il generale Delfino, tornando indietro negli anni… Il generale dei Carabinieri, che anche lui aveva la casa vicino al Lago d'Orte… Eh, cosa c'entra Delfino che non c'è più in questa vicenda? Ecco, non bisogna parlare di chi non c'è più, ma siccome è storia che si legge, cosa aveva detto all'allora Ministro di Grazia e Giustizia Martelli? Le faccio un regalo, le consegnerò prima di Natale… Chi? Totorina… Totorina… E cosa è successo? Che 15 giorni dopo, 20 giorni dopo Natale… Perciò secondo lei ci sarà stata una trattativa o no per l'arresto di Totorina… E qui la trattativa tra chi sarebbe però? E questo non me lo chiedo Giletti… Però lei mi fa capire che la famosa trattativa non è mai finita allora… e ne mai finirà, prima ha detto… E quando avverrebbe questo ipotetico arresto di Matteo Messina Denaro? Giletti, ci sono delle date che parlano, non è che il Baiardo si sta inventando… E ma lei aveva detto che quando allo Stato farà comodo oppure lui non servirà più… Questo l'avevo già detto in tempi non sospetti… E verrà preso… E' arrivato questo periodo, questo momento forse? Presumo di sì… Ed è intrecciato con lo stativo? Presumo di sì… Certo… Sono quelle trattative che tu dè una cosa mia… Presumo che siano così… Come sono state negli anni addietro… Abbiamo un esempio e non è che… Certo lascia perplessi tutto questo… Lascia perplessi se si avvererà… Se non si avvera la gente dice guarda il Baiardo ha raccontato un'altra fesseria… Allora ci vedremo… Magari su questo mare o sul lago d'Orta… Sicuramente… Così anche Giletti mi dirà… Baiardo, cosa mi ha combinato, mi ha fatto dire fesserie… Grazie a tutti… Grazie a tutti… Grazie a tutti…